In collaborazione con Find Yourself in ASPRE Genova, la città del Salone Nautico, dal 2 al 6 di ottobre Schirama Dolomiti, Adamello Brenta Amici sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Moboni al primo appuntamento settimanale con Blue Sport, il magazine televisivo di Odeon, tutto dedicato ai grandi eventi sportivi dell'anno, Blue Sport in onda, sulle frequenze di Odeon TV, da aprile sino a novembre, quest'anno nel 2013 siamo giunti al suo quindicesimo anno di messa in onda In questa puntata parliamo di Motonautica, siamo a Riccione per la festa annuale della Federazione Italiana Motonautica, la presentazione della stagione 2013 Presidente Vincenzo Iacognanni, rieletto al quarto mandato della Federazione Italiana Motonautica come Presidente, quale soddisfazione e quale compito adesso le aspetta? Soddisfazioni moltissime al di là della rielezione e che sono le soddisfazioni di molti titoli vinti, del progresso costante della nostra attività, dei giovani che aumentano e del fatto che siamo riusciti a superare le difficoltà economiche di questo periodo con delle ristrutturazioni di programmi che però non hanno inciso minimamente su quella che è l'attività agonistica e di conseguenza sulla vittoria dei titoli internazionali Il lavoro che l'aspetta, lei lo sa, come sempre è molto duro, soprattutto più duro per i tagli continui del CONI? I tagli del CONI sono connessi, ripeto, alla situazione economica al momento che stiamo vivendo Confidiamo tutti noi nella nuova presidenza del CONI, il dottor Giovanni Malagò che tra l'altro sarà presente alla nostra premiazione che ha delle idee innovative e dalle quali, io sono convinto, deriveranno anche delle risorse aggiuntive per il CONI, per lo sport e quindi anche per noi Qui vicino a lei vediamo una tuta che presentiamo qui, la Federazione Italiana Motonautica presenta ed è un'assoluta novità nel campo della sicurezza e l'ha voluta lei Sì, questo è la nostra partnership molto importante che è con la Sparco che è una delle aziende a livello mondiale più note, importanti e prestigiose per quanto attiene l'abbigliamento e le misure di sicurezza nel motosport hanno voluto, cosa che non era mai successa prima, dedicare un reparto della loro produzione proprio all'attività motonautica La motonautica è uno di quegli sport che ha vissuto, uno di quegli sport motoristici che viveva dal punto di vista dell'abbigliamento e delle attrezzature di sicurezza sempre di rimbalzo Cioè si usavano dei materiali che erano stati pensati soprattutto per l'automobilismo ma in alcuni casi anche per il motociclismo Sparco ha voluto dedicare a noi una linea solo ed esclusivamente per lo sport motonautico In particolare questa tuta risolve uno dei nostri problemi che è quello del galleggiamento del pilota in caso di incidente qualora il pilota fosse privo di conoscenza e comunque non in grado di nuotare autonomamente senza che vi sia un salvagente aggiuntivo che oltre a essere assolutamente anacronistico ha comportato diversi problemi per poter uscire dalle imbarcazioni che sono in alcuni casi abbastanza strette Questa tuta incorpora l'essenza di una tuta antifuoco che si usa in automobilismo con dei microinserti di un materiale molto moderno di cui non ricordo neanche il nome tra l'altro perché è un composto chimico particolare con una forte galleggiabilità che senza incidere sulla vestibilità della tuta garantiscono al pilota anche inanimato di galleggiare con la testa fuori dall'acqua Paolo, questa stagione come si è chiusa? Diciamo parzialmente bene e parzialmente male, ho vinto il campionato italiano del Formula 2 e nel mondiale purtroppo non è stata una stagione molto positiva purtroppo ho avuto un paio di incidenti che mi hanno veramente penalizzato e questo chiaramente mi ha portato ad avere un risultato non tanto positivo al contrario della stagione scorsa dove ho fatto il terzo nel mondiale e il terzo nell'europeo quest'anno purtroppo le due gare che purtroppo sono andate male a Uronzo nell'europeo e Stoccolma nel mondiale mi hanno penalizzato perciò a livello internazionale speriamo di rifarci presto Il 2013 quali sono i programmi? Il campionato del mondo della Formula 2, campionato mondiale e campionato europeo Invece Davide Alpina cosa pensa? L'anno prossimo cosa faremo? Il prossimo anno se ci saranno le possibilità penso e spero di sì correrò nel campionato italiano del Formula 2 speriamo bene insomma Max Bertolucci un amico, un grande campione di motonautica sono passati più di vent'anni quando correvamo insieme in classe 1 ma siamo sempre presenti al pezzo, la motonautica ce l'abbiamo nel sangue la benzina ci scorre nelle vene Max anche nel 2013 sei responsabile dei piloti quindi hai fatto una grande carriera, hanno scorso un grande risultato presentaci la stagione La stagione quest'anno si parte da Jesolo la stagione del campionato italiano Jesolo vedrà sia l'endurance che l'offshore, ospiti poi andremo dopo Jesolo, andremo a Bellaria per quanto riguarda l'endurance e si ritroveremo insieme all'offshore a San Felice Cicceo E poi la conclusione con la 100 miglia varia anche come campionato mondiale Sì, grande conclusione a Como come al solito eventi molto importanti sul territorio e il mondiale finirà la stagione agonistica 2013 Ecco, una bella festa qui a Riccione tanti piloti, la motonautica è stato nel momento difficile la motonautica italiana sta vivendo un momento abbastanza buono Sicuramente, la federazione è la mamma dello sport motonautico praticamente quest'anno premierà tanti piloti tanti titoli portati a casa tanti mondiali europei e titoli italiani quindi la storia continua e andiamo avanti Giovanni Di Meglio, figlio d'arte, figlio del principe chi era il principe? Era il mignolo che davano a mio pare quando correva in motonautica negli anni 80 in classe 1 insieme ad Antonio Gioffredi una coppia fantastica che ha vinto negli anni diversi titoli mondiali tra cui il più importante è il classe 1 a Oakland nel 1986 due titoli della classe 6000 io ho seguito le orme negli anni ovviamente non con lo stesso successo Lei è campione italiano del di Porto? Sì, insieme a Gianluca Biondi mi diverto a fare queste gare anche del di Porto corro anche in offshore con Diego Testa con cui ho vinto l'Europeno nel 2008 e da quest'anno, nel 2013, correrò nell'endurance con Fiuvio De Simone Ma lei quindi da piccolino andava in barca col papà? Seguivo le gare di mio padre in giro per l'Europa e anche per il mondo quindi la passione è di famiglia condivisa anche con la vela anche se diciamo cozza un po' con la motonautica però faccio sia quello che motonautica che vela Alberto Monti e Lorenzo Benaglia ovvero il meglio delle moto d'acqua Ma il meglio, diciamo sì, il meglio Più scatenati va Diciamo quelli che praticano lo sport della moto d'acqua da più anni tutto qua Il re però è sempre Alberto Monti Vi ringrazio ma sono un appassionato come tanti altri che dedica molto del tempo libero in questo sport e fortunatamente sono riuscito a raccogliere buoni risultati Infatti diciamo nel 2012 qual è stato il titolo italiano numero? 23 23 titoli italiani Benaglia invece quanti ne ha? Accumulati Di italiani? Non lo so perché è un pezzo che non vinca un italiano No più che altro negli ultimi anni mi sono dedicato al mondiale e nel 2012 sono andato in Cina nell'ultima prova che potevo ancora vincere il titolo ma ho avuto un attimo di sfortuna col mezzo e ho concluso il terzo posto Un po' di amare in bocca insomma Ma si diciamo molto amaro Adesso stiamo preparando stiamo lavorando per fare la stagione 2013 al meglio Dove si fa il campionato del mondo? Dovrebbe partire con la prima prova in Sardegna come lo scorso anno e concludersi con l'ultima in Qatar Adesso stiamo vedendo di prepararci al meglio di riuscire a vincere questo titolo che mi manca ancora Cos'è che ha frenato l'accesso alle moto d'acqua? Le normative, la legislazione? Ma no Ultimamente che ha frenato un po' lo sport di moto d'acqua e non solo è sicuramente il costo della crisi economica attuale che non permette di fare tante cose al momento Speriamo in periodi migliori che dia la possibilità a tanta gente di poter praticare questo sport L'obiettivo è il programma del 2013 per Alberto Monti? L'obiettivo è di partecipare come sempre al campionato italiano perché siamo in casa con amici è un bello spettacolo per tutti ed è divertente e di riprovare ancora l'attacco al mondiale magari scalando ancora qualche gradino dal terzo posto magari salire un po' Il bilancio 2012 ottimo, no? Mancava forse la ciliegina? No, è andato molto, 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 molto male No, dovevo vincerlo completamente senza problemi ho avuto problemi tecnici solo di grande sfortuna l'italiano solo partecipato ho fatto zero punti perché è stata un'annata nera problemi tecnici solo grandi problemi tecnici E adesso li ha risolti? Per il prossimo anno? Per il prossimo anno vediamo li ho risolti ma solo che comincio ad essere un po' vecchio quindi vedo se fare solo il mondiale l'europeo l'italiano non so se fare qualche gara ma ci tengo molto per il mondiale a Como Dove si sta preparando? Lei è di Como della zona del Comasco? Noi ci stiamo preparando qui sul lago di Zeo ci prepariamo a Lecco vicino a Como e adesso stiamo facendo una cosa molto importante stiamo facendo una scuola di pilotaggio dove la faremo il 6-7 di aprile il 13-14 due corsi dove abbiamo già una ventina di persone che partecipano dove cerchiamo di trovare dei nuovi piloti che vogliono partecipare a questo ambiente è un settore che mi appassiona moltissimo quando ho un minuto della mia vita vado in barca e in barca motore non è che abbia nulla contro la vela anzi tra le altre cose che mi appassiona da morire ma purtroppo non ho molto tempo da dedicare però è un modo di concepire il mare che condivido con cui sono in totale complicità qui mi sento a casa sia per il mio DNA legato al mondo dei motori a 360 gradi sia che si parli di auto o di moto o di barche siamo in mio rapporto con il presidente Giacogliani e poi ragazzi oggettivamente bisogna riconoscere che i risultati sportivi e sottolineo sportivi di questa federazione si commentano da soli siamo di gran lunga la prima federazione al mondo la nuova gamma di prodotti Asprey si veste di nuovo ampia selezione di tablet di ultima generazione 8, 10, 13 pollici per soddisfare ogni singola esigenza tv led ad alta definizione con performance e qualità elevati melodie avvolgenti bassi consumi energetici in classe A nel rispetto dell'ambiente un'attenta ricerca nel design per linee uniche ed originali che ti accompagneranno passo per passo nei momenti più belli della tua vita Asprey Fun Yourself Schirama Dolomiti ad Amello Brenta sci sole neve tutto questo è Schirama infoline www.schirama.it approfittale Genova la città del salone nautico dal 2 al 6 di ottobre Schirama Dolomiti Ad Amello Brenta Genova la città del salone nautico dal 2 al 6 di ottobre Schirama Dolomiti Ad Amello Brenta Grazie a tutti Grazie a tutti consumi energetici in classe A nel rispetto dell'ambiente un'attenta ricerca nel design per linee uniche ed originali che ti accompagneranno passo per passo nei momenti più belli della tua vita Anspree Fun Yourself Schirama Dolomiti Schirama Dolomiti Ad Amello Brenta sci sole neve tutto questo è Schirama infoline www.schirama.it approfittale Genova la città del salone nautico dal 2 al 6 di ottobre Amici sportivi di odio ben ritrovati da Floriano Moboni seconda parte della prima puntata di Blue Sport il magazine televisivo di odio tutto dedicato agli eventi sportivi più importanti dell'anno Blue Sport in onda sulle frequenze di odio in tv da aprile sino a novembre questa puntata la prima della quindicesima edizione è tutta dedicata alla motonautica siamo a Riccione per la festa annuale della FIM Federazione Italiana Motonautica che è la presentazione della stagione 2013 tanti personaggi famosi e VIP presenti qui a Riccione per la festa annuale della Federazione Italiana Motonautica e tra gli altri incontriamo Claudio Pastoris che è l'amministratore delegato della Sparco azienda leader nell'abbigliamento per quanto riguarda l'abbigliamento tecnico per chi va in macchina che ora è anche presente nella Motonautica per una bella festa qui a Riccione sì quest'anno Sparco ha voluto mettere a disposizione tutta la sua competenza la tecnologia in ambito racing e attraverso un accordo che ha fatto con la Federazione Motonautica di Partnership ha realizzato alcuni prodotti partendo proprio dall'esperienza nel settore racing specifici per la motonautica ecco qui veniamo una tuta con una tuta realizzata ad hoc che ha questi inserti galleggianti sono rimovibili in funzione anche delle caratteristiche del pilota è stata provata e consente in caso di incidente di mantenere il corpo eretto abbiamo un casco integrale con i colori richiesti dalla Federazione e soprattutto un sedile che è stato realizzato appositamente per le barche ci racconti un po' la storia di Sparco quando è nata e come funziona la Sparco dal punto di vista commerciale Sparco è nata a Torino nel 1977 in un periodo in cui i drammatici incidenti industria l'orografia a introdurre regolamenti molto severi proprio per la salvaguarda del pilota intervenendo sulla composizione dell'abbigliamento e sugli accessori auto Sparco è oggi leader mondiale del mondo resi il mondo delle corse fornisce oltre 250 team nel mondo di primo livello che partecipano a campionati nazionali o internazionali a partire dalla Formula 1 dove nei giorni scorsi è stato rinnovato un contratto per tre anni con McLaren forniamo McLaren dal 1995 abbiamo altri team in Formula 1 ne abbiamo 8 nel GP2 siamo presenti in modo importante nella Dakar e in tutta una serie e da quest'anno già dall'anno scorso anche con la motonautica quindi McLaren è un bel connubio complimenti quindi abbiamo voluto ritornare alla grande nella motonautica dando proprio in modo specifico alcuni prodotti studiati ad hoc Roberto Mariani uno dei pazzi del freestyle italiano sì vabbè pazzi tra parentesi spericolati sì siamo una disciplina molto spettacolare facciamo delle manovre che sembrano veramente da pazzi proprio però tutto sommato comunque è anche meno pericoloso del circuito è che gareggiamo da soli siamo in acqua quando cadiamo cadiamo in acqua non abbiamo altri piloti che ci possano investire insomma nella gara il 2012 come è andato? il 2012 è andato molto bene ho fatto di nuovo doppietto ho rivinto l'italiano freestyle ho vinto anche l'europeo i GSBA un titolo non titolato dalla federazione italiana è un campionato europeo anonimo però molto importante per i media è importantissimo quindi ho fatto una bella doppietta è una bella soddisfazione il mio team è andato molto forte abbiamo vinto tre titoli italiani e due europei complimenti l'anno prossimo quindi il 2013 quale sarà l'obiettivo? speriamo di riportare il mondiale a casa perché nel 2011 ne abbiamo 22 sia nel freestyle con Valerio Calderoni e con Mattia Fragasso nel runabout i due titoli più importanti del mondiale l'anno scorso molto sfortunato Mattia Valerio anche prima gara infortunio saltato tutto il mondiale quest'anno ripartiamo di slancio con Valerio abbiamo appena spedito la moto per la Cina c'è il mondiale in Cina a Sania di freestyle cominciamo prima noi soltanto noi e poi comincerà il circuito speriamo di portare il mondiale per l'italiano daremo battaglia come al solito e anche nell'europeo parteciperemo a tutti quanti i titoli questa bellissima ragazza si chiama Chiara Rossi ha 26 anni e corre in motonautica una mosca bianca praticamente esattamente l'unica cosa in Italia purtroppo sì perché non abbiamo altre presenze femminili all'estero invece fortunatamente mi posso appoggiare a qualcun'altra però sei anche molto coccolata sì beh quello sicuramente tutti questi ometti che cosa ti dicono magari ti prendono anche un po' sotto gambo ma no quello no non credo però comunque siamo un po' coccolate fortunatamente in questo ambiente sì sì mi trovo molto bene come è stato il bilancio dalla stagione 2012 non eri molto soddisfatta? no decisamente no eravamo in testa al campionato fino a la penultima gara poi per l'alto di? italiano della Formula 1000 poi abbiamo avuto dei problemi con la barca dei problemi tecnici strutturali abbiamo dovuto abbandonare l'ultima gara e abbiamo finito quarti Guido grande festa qui a Riccione per la festa annuale della federazione l'anno scorso è arrivato secondo ma hai grandi progetti per il 2013 cosa pensi di fare? guarda quest'anno ho rifatto completamente l'imbarcazione per evitare di avere i problemi dell'anno passato che ho avuto più di qualche avaria sembra rispondere molto bene quindi guarda parto proprio con serissime intenzioni di ben fare sia nell'italiano che nell'europeo che nel mondiale il mondiale accomuga la 100 miglia a metà ottobre l'europeo a fine maggio poi tre belle gare di italiano Iesolo Bellaria e San Felice del Circia quindi cinque gare toste cinque gare toste tutte in bellissime località partiamo con Iesolo che è bello è bello andare lì perché c'è Luca Tallapietra che ci sta mettendo l'anima per organizzarlo molto bene è bellissimo tornare ancora una volta a Bellaria e ripetersi al Circeo poi grande novità grazie al Salone Nautico l'anno scorso hai fatto dieci giorni di presenza al Salone Nautico tanti piloti hai fatto una scuola di avviamento hai già fatto i primi corsi che hanno avuto un buon risultato grazie alla gente che si è iscritta al Salone Nautico 2012 esattamente proprio le persone che hanno visto questa pubblicità del corso di avviamento e del pilotaggio si sono così potenzialmente dichiarati interessati in tanti e devo dirti che del Salone di Genova 16 persone hanno frequentato il corso e si sono non solo divertiti l'hanno trovato molto interessante hanno ricevuto l'attestato di partecipazione e quindi è un'esperienza da ripetere che potrebbero correre se non quest'anno o l'anno prossimo quindi sono dei potenziali piloti a costo chi vuole correre in macchina a quattro ruote costa un sacco di soldi con la motonautica ci si diverte si può vincere a costi giustificati abbastanza non stratosferici sì infatti due di questi quasi certamente parteciperanno poi al campionato il bilancio della stagione 2012 il 2012 siamo molto soddisfatti abbiamo fatto un terzo posto in off shore con il mio compagno Massimo Capoferi con due rotture comunque siamo riusciti a prendere la medaglia di bronzo in endurance gruppo A abbiamo vinto la Roma official speed race una gara internazionale organizzata a Roma da Massimo Lippi l'ho vinta con Marco Pennesi abbiamo fatto anche il campionato del mondo giù in Florida QS sempre in endurance gruppo A siamo arrivati secondi però poi per un motivo che ancora non abbiamo capito siamo stati se non mi sbaglio penalizzati per un salto di boa comunque è stata una stagione fantastica il 2013 si prevede dei risultati mi auguro positivi correrà ancora con Capoferi nell'off shore italiano? correrò con il mio amico e il mio maestro in catamarano e in endurance gruppo B stiamo facendo una barca gruppo B acquistata da poco il gommone l'S68 che già è pronto scenderemo in acqua la prossima settimana a fare delle prove quindi incrociamo le dita e speriamo che venga fuori una bella stagione è difficile vedere un giovane che è appassionato di radio comandata da dove nasce questa passione? la passione nasce da mio padre che comunque fin da piccolo mi ha tirato su con questa passione e oggigiorno comunque fatica a vedere giovani un po' forse internet i giochi i playstation ma si chiamano il piacere comunque di costruire un qualcosa e di provarlo comunque in acqua e fare una competizione ecco quindi vorresti se dovessi dare un messaggio ai giovani perché devono fare la radio comandata? perché comunque è un modo per passare del tempo nel mio caso con i familiari metti in pratica un po' di concetti che comunque metti costruisci ti diverti e poi passi del tempo all'aperto poi se si organizza con un gruppo di amici è anche divertente uscire con amici andare il bilancio del 2012 e gli obiettivi del 2013? allora il bilancio del 2012 siamo soddisfatti abbiamo portato a casa delle buone postazioni sia io che mio padre per il 2013 abbiamo costruito delle barche un po' leggermente diverse adesso dobbiamo provare puntate ancora al titolo italiano titolo italiano e classificazione per i mondiali che ci sono nel 2014 qual è il punto che nel 2013 l'obiettivo che nel 2013 Iaconianni vuole centrare per la sua federazione? i punti sono diversi innanzitutto cercare di mantenere lo stato e i numeri che abbiamo in questo momento e quindi la vittoria di titoli perché di anno in anno si presentano situazioni economicamente sempre più difficili e quindi parlare di migliorare può essere ottimistico bisogna essere attenti a mantenere quanto meno i nostri livelli che sono comunque già abbastanza alti nel futuro del nostro sport soprattutto per quanto riguarda le categorie non solo promozionali ma diciamo quelle propedeutiche quelle che preparano al professionismo motonautico bisogna cambiare decisamente registro e seguire quello che fa per esempio l'automobilismo il motociclismo cioè non la libera scelta di un'imbarcazione o di un motore o di trasmissioni o di eliche che sono cose molto costose alla fine ma di andare nella direzione del monomarca monotipo realizzato e studiato dalla federazione magari insieme alla federazione internazionale per dare dei mezzi che siano uguali per tutti e che abbiano una grande economia di acquisto e di gestione questo è il futuro secondo me del nostro sport amici sportivi di odio il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata è finita la prima puntata della quindicesima edizione di Blue Sport il magazine televisivo di odio tutto dedicato agli eventi sportivi più importanti dell'anno Blue Sport in onda sulle frequenze di odio on tv da aprile e sino a novembre quest'anno il 2018 Blue Sport è giunto al suo quindicesimo anno di messa in onda in questa puntata come avete visto abbiamo visto qui da Riccione la festa annuale della federazione italiana motonautica dedicata alla stagione 2012 la presentazione della prossima stagione che ormai sta iniziando 2013 l'appuntamento con il grande sport di odio ritorna settimana prossima sempre sulle frequenze di odio on tv ciao e arrivederci la prossima settimana Floriano Moboni Genova la città del salone nautico dal 2 al 6 di ottobre Schirama Dolomiti Adamello Brenta